Ciao a tutti amici di Marina Romeo Tennis e oggi con questo video voglio parlarvi di videoanalisi e della sua importanza per riuscire ad apportare delle modifiche ai vostri colpi che possano migliorare la vostra tecnica esecutiva e la performance del vostro gioco. Quindi vedrete nelle immagini che seguono alcuni miei allievi, alcuni miei allievi che hanno eseguito la videoanalisi sul campo con me e quindi anche in alcuni casi nell'arco di un'ora solamente di allenamento siamo riusciti a modificare il colpo e ad avere dei grandi miglioramenti nell'esecuzione stessa quindi anche nel risultato finale. Se volete saperne di più sulla mia attività vi invito a cliccare la scheda che vedete comparire qui in alto a destra così potete entrare sul mio sito web e vedere anche il calendario dei miei prossimi eventi e quindi anche dei miei prossimi stage dal vivo e quindi sul campo dove sempre utilizziamo la videoanalisi per dare dei feedback di maggiore qualità ai nostri allievi perché dovete sapere che con la videoanalisi potete avere nello stesso momento un feedback uditivo e anche visivo. Questo garantisce dei grandissimi risultati molto più efficaci di quando invece si ha solo un feedback verbale. Bene qui vedete un nostro allievo dopo la videoanalisi nella immagine di sinistra e prima della videoanalisi nell'immagine di destra. Il lavoro di collezione prevedeva un miglioramento nella postura sia in fase di partenza di attesa del colpo che durante gli spostamenti e all'impatto come vedete nell'immagine di sinistra notevolmente migliorato a livello posturale quindi col baricentro un pochino più basso in spinta sia dal basso che in avanti quindi abbiamo in questo modo reso più solidi i nostri colpi. Ecco qui nelle immagini che vedete a sinistra il nostro allievo durante uno stage prima della videoanalisi come vedete una preparazione molto lineare dal basso e mentre lo vedete molto migliorato quindi abbiamo lavorato sulla fase di preparazione del colpo quindi con una preparazione più verso l'alto della testa della racchetta nell'immagine di destra quindi con la maglia più scura vedete alzare la punta della racchetta per creare uno swing più ampio e a quel punto generare sia più velocità all'attrezzo ma anche più rotazione al colpo e più solidità ai colpi non che anche più altezza quello che cercava proprio il nostro allievo prima di affrontare un nostro stage di tennis. Nell'immagine che vedete ora sempre con una nostra allieva durante uno stage di tennis la videoanalisi nell'immagine di destra prima della correzione e invece a sinistra dopo la correzione vedete come la nostra allieva aveva l'impatto troppo vicino al corpo col gomito molto piegato nell'immagine di sinistra molto migliorata il finale molto più disteso in avanti quindi anche il gomito il braccio la racchetta che salgono. Nell'immagine che vedete prima della correzione l'immagine di destra e invece dopo la correzione dopo la videoanalisi abbiamo avuto un notevole miglioramento sia nella fase di preparazione del colpo dove abbiamo lavorato cercando di alzare il gomito destro che rimaneva troppo basso nella prima fase di caricamento quindi rallentava l'azione ma comunque rendeva anche il movimento un pochino più contratto con un conseguente punto di impatto molto più basso. Vedete come il giocatore ha migliorato la meccanica il timing e nelle prossime immagini vedrete un notevole miglioramento e quindi anche un punto di impatto molto più in alto che garantisce quindi una performance notevolmente migliore al colpo e quindi anche una notevole velocità di palla che aumenta anche creando nello stesso momento più rotazione. Spero che il video di oggi vi piazza se così è vi invito a mettere il like ma anche ad iscrivervi al canale youtube se non l'avete ancora fatto questo per far crescere il canale per garantire anche voi dei video di sempre maggiore.